Ciao a tutti, io sono Simone e oggi sono qua in questo Ask, l'AskSim e praticamente voi dovete mand... cioè... vi ho chiesto di mandarmi delle domande su Ask e io risponderò apertamente nel video quindi sai quante figuracce mi farò molto tanto e infatti la prima domanda me la fa Giulia08 e mi chiede qual è stata la tua prima figuraccia? la mia prima figuraccia è stata in primo elementare dove mi sono attaccata alla maestra sono attaccata alla gamba della maestra sono stato lì per dieci minuti lei poi mi ha messo una notte sul diario tanto non è che delle maestre e delle elementari non è che valgono tanto e quindi ero anche felice quando me l'ha messa Antobaby08 canzone preferita la mia canzone preferita al momento è... sì comunque questa è la mia canzone preferita passiamo alla prossima domanda cosa ne pensi delle fanpage per te? io le fanpage le amo tutte quante, le stalkero tutte sempre però comunque ho una vita sociale quindi non è che non posto neanche tanto su Instagram cioè posto ogni tre giorni e mi sembra un po' troppo poco per quello che mi stai disattivando però comunque cercherò di essere un po' più attivo Nick03 mi chiede parlo della tua prima crush o del tuo primo bacio? parlo della mia prima crush che è stata Laura Pausini io avevo tutti i poster di Laura Pausini in camera mia cioè non so se mi spiego bene cioè Laura Pausini era avete presente quando ti alzi nella mattina e vedi un arcobaleno? ecco lì c'è stato Laura forse ho fila 130202 mi chiede passano porche, passano cinghiali, passano maiali, passano elicotteri, passano aerei da guerra se sì tanto quante ragazze hai avuto? non mi ricordo quindi non lo so ok questo ask è finito lasciate mi piace, commento, quello che volete lasciate pure un aereo da guerra tanto qua ormai ne abbiamo fatto l'abitudine e noi ci vediamo al prossimo video uhuu